Adesso andiamo avanti con il nostro giornale perché parliamo di volontariato e Federico Gelli è stato riconfermato presidente del CESVOT. Sono 8.249 gli enti del terzo settore attivi in Toscana raggiunti dai servizi CESVOT, il centro servizi del volontariato toscano attivo ormai da quasi 24 anni nel panorama regionale. Ieri alla sua guida è stato riconfermato Federico Gelli. Classe 62, medico specializzato in sanità pubblica, Gelli ha ricoperto diversi incarichi, sia pubblici che privati, tra i quali la direzione sanitaria dell'ospedale di Firenze Centro, mentre la carriera politica lo ha portato ad essere vicepresidente della regione toscana dal 2005 al 2012 e deputato, eletto con il Partito Democratico nel 2013. Oggi è coordinatore dell'unità sanitaria di crisi per l'emergenza Covid dell'Asla Toscana Centro. È motivo di grande orgoglio essere ancora la guida del CESVOT e di aver ricevuto la fiducia all'unanimità delle associazioni socie, ha detto Gelli, che poi ha proseguito. Siamo stati al passo coi tempi ed abbiamo saputo affrontare tutti i cambiamenti richiesti dal nuovo contesto normativo e sociale. Abbiamo saputo cambiare CESVOT, non mollare in tempo di pandemia, assicurare agli ETS tutti i servizi previsti e collaborare sempre più intensamente con i profili nazionali di riferimento e con le istituzioni locali. Negli ultimi anni CESVOT ha ampliato il proprio raggio d'azione, aprendosi a tutti gli enti toscani del terzo settore e modificando statuti e regolamenti, protocolli e modelli di rendicontazione che gli hanno consentito di accreditarsi a livello nazionale. Ma ingenti sono anche gli impegni per il futuro. L'istituzione e l'avvio del registro unico nazionale sarà un processo impegnativo per tutti, per noi, per gli enti locali e per gli enti del terzo settore, dice ancora Gelli. Consolideremo il già ampio rapporto di collaborazione con regioni toscana, ANCI e comuni ed abbiamo avviato una relazione di ascolto e di scambio con il Consiglio regionale della Toscana. In tutto questo non possiamo dimenticare che nel periodo di pandemia anche il volontariato ha sofferto molto e gli ETS saranno chiamati ad impegnarsi ancora di più. La sfida di Gelli dunque è quella di confermare quale punto di riferimento per gli enti benefici del territorio, garantendo loro consulenza, formazione e promozione del volontariato.